Teo Mammucari ha lasciato lo studio di Belve a metà della sua intervista con Francesca Fagnani. Cosa è successo? Teo Mammucari ha davvero lasciato lo studio di Belve a metà della sua intervista con Francesca Fagnani? A quanto pare sì. A riferirlo è Davide Maggio tramite il suo portale. Ma cosa è successo? Sembra che il comico sia rimasto spiazzato dal taglio dell'intervista della compagna di Enrico Mentana e che quindi, stizzito, abbia deciso di andarsene. Francesca Fagnani stessa, in effetti, ha riferito che nel suo programma gli imprevisti sono all'ordine del giorno e molti degli ospiti di Belve hanno chiesto di poter fare modifiche o tagli alle proprie interviste. Ne è un caso emblematico Elettra Lamborghini, altri, invece, non hanno firmato la liberatoria quando hanno scoperto di non poter sapere in anticipo le domande della padrona di casa. Ma cosa è successo con Teo Mammucari? Cosa ha fatto Teo Mammucari a Belve? Davide Maggio ha dato l'anteprima su quanto accaduto a Belve. Teo Mammucari avrebbe lasciato lo studio di Francesca Fagnani decisamente infastidito. Ecco cosa leggiamo sul portale del noto giornalista, che gli ospiti di Belve desiderino spesso e volentieri di essere altrove, è la Palissiano. Che qualcuno abbandoni le registrazioni del programma nel bel mezzo dell'intervista è una novità. Ed è accaduta questo pomeriggio con Teo Mammucari, e ancora, dopo le prime domande di Francesca Fagnani, il conduttore visibilmente irritato ha deciso di lasciare lo studio, sotto lo sguardo incredulo del pubblico. Per la conduttrice è una gatta da pelare. Lo studio di Belve, infatti, è a disposizione della produzione due soli pomeriggi a settimana e bisogna trovare un nuovo ospite per le registrazioni in programma domani. A questo punto, inoltre, ci si chiede cosa ci si farà con quei pochi minuti di intervista a Teo Mammucari già registrati. Il pubblico di Belve, comunque, dopo l'arrivederci repentino dell'ospite di Francesca Fagnani, sarebbe rimasto senza parole, non potendosi mai aspettare una reazione del genere da parte del comico romano. La reazione di Francesca Fagnani, da nessuna parte è menzionata la reazione che avrebbe avuto Francesca Fagnani dopo questo inconveniente, ma possiamo immaginare che sia rimasta incredula come i suoi spettatori. Con chi verrà sostituito Mammucari? Lo scopriremo, a questo punto, nella prossima puntata di Belve.